Mauro Buschini è il nuovo presidente del Consiglio regionale del Lazio, decisiva la quarta votazione di 26 voti ricevuti dal centro-sinistra, staccato e battuto il candidato del Movimento 5 Stelle, David Porrello, mentre il centro-destra ha votato scheda bianca. Mauro Buschini, capogruppo del Partito Democratico alla Pisana, succede a Daniele Leodori, neo-vicepresidente della Giunta guidata dal governatore Nicola Zingaretti. Sono consapevole della responsabilità e del significato politico ed istituzionale che onorerò con tutto me stesso, per chi ama la politica e si batte per il rispetto delle istituzioni, ha dichiarato Mauro Buschini. Sarà un presidente garante, arbitro assoluto, imparziale nell'organizzazione e nella gestione di quest'aula, facendo del dialogo, del rispetto delle posizioni altrui, del confronto tra idee differenti. La via maestra, sarò primo tifoso dell'istituzione regione perché questo luogo possa dare voce sempre più a chi non ce l'ha, attraverso un legame sempre più forte con le nostre comunità. Voglio ringraziare il presidente Nicola Zingaretti, ha concluso Mauro Buschini. Con lui tutti noi abbiamo intrapreso un percorso di cambiamento ed in questi anni abbiamo insieme trasformato questa regione, resa affidabile verso i cittadini.